ma vete va fanculo va fanculo 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 ciao a tutti ragazzi dagli scoppi Albert qui Pingu che oddio ci ho rischiato di nuovo eh santo oddio che bordello che fa sta cosa dicevo ciao a tutti sono io perché io sono io tu sei tu chi è noi voi essi sono Pingu sono tornato con 9 episodi di Half-Life il numero 15 sanamente mi ricordo il numero dell'episodio e dai dai macchinina di merda splash ed esplode bene eh sì eravamo rimasti dopo il ponte ora andiamo questo è l'episodio numero 15 15 come gli anni di cristo gli anni di cristo quando aveva 15 anni una luce rossa nel muro senza capo né coda e il caricamento perché il caricamento non manca mai gli uomini passano passano le storie ma i caricamenti i caricamenti non passano mai dove siamo le solite str- ah siamo ancora sulla Salerno Reggio Calabria eh stiamo arrivando nei pressi di un faro un faro occupato dagli spacciatori chi è? ah no è buono ciao si nascondiamola allora toh azzeccato proprio eh che parcheggio che parcheggio aprimi mongoloide come a piedi ciao medico no 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 fatevi i fatti vostri oh me ne vado al faro me ne frega nulla addio rimanete voi con i vostri problemi le vostre dropship io faccio finta di nulla me ne vado al faro ora mi diverto a fare delle cosine bastarde per esempio dove cacchio sono? mi sembra al faro di una mappa di battlefield bad company 2 dove 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 si vai diciamo le cazzate che devo dire non mi ricordo manco dove di si c'era una mappa di bad company 2 dove c'era un faro via tanti discursi eccoli merda l'ho mancata bastardi stanno entrando? oh 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 non buono che cazzo è oh eccoli vabbè tanto c'ho i grazzi quindi li ammazzo all'infinito andiamo a ripigliarci i razzi morti? ce ne sono altri? merda 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 oggi giochiamo solo corazzi tanto c'abbiamo una scorta infinita che ce ne frega vai andiamocene scusate ma tu che cazzo sei stato a fare qua? ce l'hai fatti venire ma che cazzo? è fuori di testa? sento voci eccoli e fammi divertire un po' che pa... dio come li sberlo e dai merda vabbè facciamo e me ne vado ciao dove si va di qua? che è? un tasto? error ma che cazzo? ma che cazzo? ma che ho? che è sto muro strano? ma che dovevo fa? ho detto c'è un passaggio segreto eh pensavo fosse qui sotto no? che palle che palle bom no quello l'ha mancato va bene cercheremo di capire cosa devo fare perché di questo passo eh ma che cazzo urli? ma spara invece di urlare imbecille vai uccidetelo fatemi un favore va uh un faro figo devi morire appena avrò capito cosa devo fare eh lo farò eh dovete crepare dovete crepare mi sono anche incastrato mi sono anche incastrato ma ho capito che devo fare non so dove andare va bene mi levo di qua però perché qua non mi piace come posso bunny hopping alla battlefield come su battlefield bunny hopping bunny hopping bunny hopping e questo è morto meno male tanto ero un coglione dove bisogna andare dove bisogna andare sentite io non ho capito dove cacchio devo andare aaaah no San Gesù e dai dov'è la porta aaaah mi sa che devo respingere l'offensiva prima o arrivano all'infinito questo è il problema non ho ancora capito perché invece dire cazzate non ascolto quello che mi dicono gli imbecilli mi sta schivando tutti i colpi mi sta schivando tutti i colpi preso eh 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 ufft 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 Vai! Boom! Mori, stronza! Ah! Tu respawni all'infinito, allora! Sì, ma dammi vita! Ma rimma mai alla! Andiamo! Dov'hai? Ah, forse mi metti il codice? Mettimi il codice, stronzetto! Sicuro? Ma tu mettimi il codice, stronzetto! Eccolo! Ecco perché non mi piaceva passare! Dove sono? Che cazzo urli? Grazie! Dammi un altro! No, un altro! Un altro! Au! Ma vaffanculo va! Te e la tua faccia di culo! Merda, merda! Chi è? Chi è? Chi è? Vai! C'è anche il mio amico mongoloide! Ci mancava solo lui! Accidenta, la miseria! Gli headcrab nascosti nei posti più idioti, sempre! E i soldati che rompono la minchia, sempre! E sempre tutti mi vogliono uccidere! Allora Ora faccio finta di nulla Però questo posto non mi piace Paura delle formiche No, ci sono degli amici, vai! Laszlo! No, no, ci sono le formiche! Stop where you are! Stay on the rocks! Don't step on the sand! It makes the Antlions crazy! Laszlo, non muove! No, help! Merda! Laszlo! Ma non me ne frega nulla! Si, mi ha fatto fare anche Buono, fa sapersi Ciao! Hai rotto il cazzo, ho capito Dai, prendiamoci gli oggetti a distanza Come i terroristi Fa un culo Questo non lo vuole nessuno Vai, vai, vai Questa scatola Non vuole nessuno Manco a sta scatola Vai, clavita! No! Ma nemmeno questo voglio E allora hai rotto il cacchio Bop! Eh, eh, eh Oddio! Oh, bello! Bene, vai, vai, vai Non tocchiamo la sabbia Non tocchiamo la Oh, là Oh, là E ora non si va Che è? Che è? Eh? Chi c'è là? Una che vuole morire? Silenzio Silenzio Cazzo è? Oh, stiamo calmi Ma non me ne faccio di nulla Ma Ah beh, un po' di vita almeno Però come minimo la devo riperdere perché Mi arrivano addosso Du'mila formie Allora Ce ne andiamo di là? Olè Olè Cazzata Olè 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 O qua Oh, 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 oh Ops, 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 ops Scherzavo Ma avete Ma f'anculo Ma f'anculo 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 Epla No Epla Dobbiamo salire qua A fare i I I Come si chiama? I I Sì, va bene Gli equilibristi Oh, 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 oh No, 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 no Qui so cosa fare Facciamo un bel gioco Esce un cazzo sto gioco No sono un figo dove si va ora? di qua o di là? di qua perchè di qua? perchè mi piace questa piattaforma è un po' di meno però una bicicletta? niente è roba inutile vieni qua vieni qua no non voglio una bicicletta bene c'è un'altra cassa uh pistole cioè pistolezioni per la magnum questa stanza piccola e buia e puzzolente giusto per farmi paura strano che non ci siano mostri vabbè basta torniamo indietro ecco si presenta un problema devo passare di qua oddio ma si può merda lo sapevo ohlele ohlala va bene basta mi sono rotto non c'è più a di saltare gente qui siamo in un punto critico le formiche sono incazzate con quei loro dentini schifosissimi mi vogliono mordicchiare quindi prendo un bel respiro e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao ciao